Prego, signor Presidente, buongiorno. Signor Presidente, tengo quasi 84 anni. Signor Presidente, signori giudici, io, Erich Pripke, sono nato il 29 luglio 1913 a Berlino. Il 24 di marzo 1944 troverà, salva a guardare il mio nome e la mia dignità. Molte grazie. Si allontana l'imputato, signor Presidente. Prego. Buongiorno, signor Presidente. Allora, a questo punto il Tribunale, se non ci sono richieste, altre richieste... Allora, a questo punto il Tribunale, se non ci sono richieste,